Guido Guidesi, la Lega Nord denuncia che gli 80 euro agli italiani è soltanto uno spot elettorale, perché? Perché gli 80 euro vanno a finire nelle tasche di pochissimi, è un decreto da spot elettorale, l'abbiamo definito noi, e poi soprattutto è un decreto che nasconde tantissime cose, tantissimi tagli ed aumenti delle tasse, proprio per questo il decreto non si è discusso, perché non volevano se sapessero queste cose. Tra le altre cose denunciate che danno 80 euro ma aumentano la tasi? Mettono la tasi, aumentano le tasse locali, l'aumento delle tasse locali sarà anche conseguente all'ennesimo taglio degli enti locali, dei trasferimenti agli enti locali, si parla addirittura di più di un miliardo per l'anno 2015 di taglio alle regioni, di più di un miliardo nell'anno 2015 di taglio ai comuni. Questa cosa l'hanno fatta ex amministratori locali, perché il governo oggi ci sono ex sindaci che si sono completamente dimenticati delle difficoltà che c'erano nell'amministrare i comuni. Sulle rendite finanziarie che cosa succede? Succede che il Partito Democratico, ben contenti, sono riusciti a fare quella tanto auspicata patrimoniale che volevano, è aumentata l'aliquota della tassazione sulle rendite finanziarie dal 20 al 26%, il Partito Democratico oggi ha deciso di tassare tutti i risparmi dei cittadini italiani. Questa è la verità, il Partito Democratico ancora una volta si dimostra partito delle tasse.